Mi chiamo Jill Mathis. Il progetto Visionary Women parte dalla ricerca Art Industria, che è iniziato intorno al 2008, creato per rendere omaggio e promuovere l'aspetto più poetico e umano dell'industria italiana. Con Visionary Women, una variante del progetto Art Industria, la fotografia è il mezzo per stimolare le aziende e il mondo a coinvolgere, sostenere e riconoscere le donne di talento. L'idea del progetto è di concentrarsi sulle donne che lavorano in settori convenzionalmente ritenuti maschili, per illuminare quelle di loro che stanno indicando la strada alle generazioni future. Mostrando un diverso tipo di fotografia industriale, lo stesso concetto può essere applicato agli individui. Non tutte le fotografie pubblicitarie devono essere uguali e non tutti gli industriali devono essere uomini. La mostra, il relativo catalogo e le pagine social recolgono brevi testi di presentazioni di diverse donne imprenditrici e della loro esperienza. Nella concezione grafica, accanto alla foto, sia nel catalogo che nella mostra, si aggiunge un pannello informativo con la testimonianza della donna sulle sue motivazioni, scelte e visione professionale. Con la collaborazione di Wisin, società benefit che si occupa del sviluppo del benessere in aziende, in concomitanza con la mostra Visionary Women, ci sarà una serie di convegni per le scuole e il pubblico. Questi convegni offrono l'opportunità di riflettere e dialogare su alcuni temi legati al lavoro, alla imprenditorialità e alla differenza di genere, dialogando con le immagini e le testimonianze scritte presenti nella mostra e nel catalogo. Visionary Women è più di una mostra. È un progetto, o meglio come dice il nome stesso, una visione. Grazie a tutti.